Io continuo, per questo che Popi, non Popi Popi, Popi, mi chiede, Gran Maestro, anch'io una domanda per lei. Chi ha ucciso l'uomo ragno? L'uomo ragno, risponda maestro. Che nello, l'uomo ci ha battuto. L'uomo ci ha battuto. Un attimo maestro, perché non si deconcenta. Era bello, con scritto De Fonseca. Maestro Orsio Polidoro le chiede, Gran Maestro, ma perché si chiama sale se invece scende? Questa effettivamente è una legge della fine. Ma perché tu digami Orsio Nostronzo? Ultima domanda a Vittorio Ryukzummo chiede, Gran Maestro, ma se due geghi si vogliono sposare, devono avere la sua approvazione oppure qualcos'altro. Prego, Maestro, risponda. Ah sì, mi sposo io, il curatore. Ciao, ciao. Però se vi nasce il figlio intelligente, lo dovete rimettere a posto e lo dovete prendere uno scemo. Ma perché la ghegheria non accetta persone intelligenti? Grazie, ma è sopra. Grazie, ma è sopra. Se vuole chiudere con una delle semplici... No, 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 è meglio di no, è meglio di no, è meglio di no. Sai come si chiamano i religiosi che si sdraiano in mezzo alla strada? No. Ahia. Gli ortodossi. Gli ortodossi.